benvenuti su veie games iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere la priorità acquisita ciao a tutti e bentornati su veie games con made of scar ormai siamo entrati nel vivo nel morto del gioco e niente abbiamo trovato anche una sorta di arma però vediamo un attimo dove dobbiamo andare abbiamo trovato la chiave che altro devo capire ciao a 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 Grazie a tutti. 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 Allora, cerco il cilindro in tutto l'hotel. Trovo modo per raggiungere il primo piano. Queste sono le due missioni. Piano terra. Allora, siamo interrato. Io sono arrivato da lì. Allora, cerco il cilindro. Allora, cerco il cilindro. I am so relieved you're safe. Allora, cerco il cilindro. 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 Che cosa è che deve andare a andare a andare a andare in un po' pericolo. E quindi vado nell'altra porta. a a a a a a a a a non posso andare da nessuna parte almeno non qua non 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 Grazie a tutti. 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 Ok, ho fatto praticamente il giro di tutto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.